salve amici ed amiche di florence international radio la notte del mistero come avete visto da qualche giorno il canale è diventato a pagamento adesso i video che ci sono attualmente sopra il canale sono visibili a tutti ma attenzione le dirette pertanto la diretta della notte il mistero sarà visibile esclusivamente agli abbonati e basta pertanto il passaggio al canale a pagamento diciamo è stato obbligato come sapete sia dalle condizioni fisiche sia dalle condizioni economiche anche in cui stiamo passando questo pessimo momento e quindi sono stato praticamente costretto non l'avrei mai voluto fare poi è chiaro che la cosa si può anche un giorno che saranno risolti questi problemi ha anche eliminare cioè il canale potrà tornare visibile a tutti però non sappiamo quando pertanto vi invito ad iscrivervi perché altrimenti la notte del mistero ripeto sarà lì c'è è visibile esclusivamente agli abbonati e basta pertanto chi si abbona a una cifra che è veramente ridicola perché sono 99 centesimi al mese al mese nemmeno il prezzo praticamente di un caffè anzi molto più basso perché visto c'è qualche bar che lo fa anche un euro di 50 99 centesimi al mese premete il tasto abbonati vi abbonate e la diretta della notte del mistero sarà magicamente disponibile per voi mia tanto magicamente semplicemente perché vi sei abbonati buon proseguimento a tutti mi raccomando abbonatevi ricordatevi 99 centesimi al mese grazie